Ciao a tutti, benvenuti ai nuovi tantissimi iscritti. Siamo oltre 5.000 iscritti al canale e io ho fatto 5 video, quindi siete veramente tantissimi e buon anno a tutti quanti. Non ho finito con la serie degli Ig Nobel, ma oggi non parliamo di Ig Nobel. In questi giorni ci sono degli argomenti che mi stanno un po' più a cuore, sto impazzendo nello specifico. Oggi parleremo di luna, allunaggio cinese e di ignoranza dei giornalisti italiani. Vi sarà capitato di sentire o di leggere in questi giorni della missione cinese Chang-4, che è allunata sul nostro satellite alle 3.26 del 3 gennaio. Quindi poco dopo Capodanno ci hanno fatto questo regalo, assieme alla NASA che invece ci ha regalato la prima foto ad alta definizione di Ultima Thule, che è sostanzialmente una cacciotta affumicata che gironzola nello spazio molto 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 lontana dalla Terra. A fotografare quest'ultimo corpo celeste, Ultima Thule, che tra l'altro è molto molto piccolo, è stata la sonda New Horizon, che è la prima che nel 2014 ha scattato una foto in alta risoluzione di Plutone, magari vi ricorderete della cosa. Ma, dicevamo, missione Chang-4. Una missione che fa parte di un progetto estremamente ambizioso dell'Agenzia Spaziale Cinese, che dovrebbe avere come scopo finale, e a breve termine, l'allunaggio umano. Ma, la missione Chang-4 ha avuto un ampissimo risalto sui media, perché ha avuto un record. Ora, io vi leggerò direttamente dal mio computer alcuni degli articoli. Rai News ci dice, la Cina conquista il lato oscuro della Luna. Ecco le prime foto dell'allunaggio. Repubblica. Spazio. La sonda cinese si posa sul lato oscuro della Luna. Il fatto quotidiano. Spazio. Sonda cinese atterra sul lato oscuro della Luna. È la prima volta nella storia. Insomma, è una missione strepitosa, questa dell'allunaggio sul lato oscuro della Luna. Soprattutto se pensate che il lato oscuro della Luna non esiste. Non c'è nessun lato oscuro sulla Luna. E questo dovrebbe essere un problema. Ora, di solito, la mia reazione quando leggo notizie di questo genere è più o meno questa. Poi mi riprendo però abbastanza in fretta e la mia reazione successiva è più o meno questa. La Luna, non so se ci avete fatto caso, ha sempre la stessa faccia rivolta verso la Terra. Se voi guardate il Groviera Luna e cercate i buchini e mappate i buchini, scoprirete che nel corso delle settimane quei buchini rimangono sempre fissi nella stessa posizione. Si chiama rotazione sincrona. La Luna ruota su se stessa e contemporaneamente orbita attorno alla Terra. Il fatto è che il tempo che ci mette la Luna a fare un giro su se stessa è di poco più di 27 giorni. E quanto ci mette la Luna a fare un giro attorno alla Terra? Poco più di 27 giorni. Risultato? La Luna guarda sempre la Terra con la stessa faccia. Questa cosa, dicevamo, si chiama rotazione sincrona. È una casualità? No. In realtà è una cosa abbastanza diffusa sia quando due corpi orbitano l'uno attorno all'altro molto vicini fra loro. Soprattutto se il corpo che orbita, ad esempio in questo caso la Luna, è molto più piccolo rispetto al corpo centrale, in questo caso la Terra. Ma la rotazione sincrona fa sì che la Luna abbia un lato nascosto. Un lato nascosto che noi da Terra non possiamo vedere. E non abbiamo mai, mai visto fino al 1959. Nel 10 ottobre del 59, infatti, la sonda sovietica Luna 3 riuscì a ruotare attorno alla Luna e scattare una foto del lato nascosto. Per invece avere degli uomini che hanno visto coi propri occhi il lato nascosto della Luna, dobbiamo attendere il 24 di dicembre, quindi vigilia del 1968, quando gli astronauti dell'Apollo 8 riuscirono a orbitare attorno alla Luna guardando coi propri occhi il lato nascosto. Quindi, esiste un lato nascosto della Luna? Assolutamente sì. Quanto è grande? È grande metà Luna? In realtà no, è il 41% della Luna. Perché in realtà c'è un fenomeno chiamato librazione, che fa sì che la Luna oscilli un po' visivamente nel cielo e ci mostri un po' più del suo contorno. Quindi in realtà noi possiamo vedere dalla Terra il 59% della superficie lunare. C'è poi un 41% che appunto è nascosto. Questo lato nascosto della Luna è estremamente interessante per tutta una serie di ragioni. È interessante ad esempio dal punto di vista geologico. È interessante perché in fondo la Luna quando orbita attorno alla Terra ci fa anche un po' da scudo verso i meteoriti in arrivo dallo spazio. E in realtà a prendersi più impatti meteorici è proprio il lato nascosto, perché è quello rivolto verso l'esterno, verso lo spazio profondo. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di ragioni scientifiche per cui vogliamo studiare il lato nascosto. Solo che è difficile. Perché è difficile? Perché se io alluno nel lato che non guarda verso Terra, come comunico con la Terra? Io mando il mio segnale, ma se non c'è nient'altro che lo fa rimbalzare nella direzione della Terra, mi sono giocato il segnale. Ecco perché finora noi avevamo studiato il lato nascosto solo tramite degli orbiter, quindi delle sonde che orbitavano attorno alla Luna, che potevano scattare delle foto, mappare la superficie, mapparla anche con dei radar, quindi tridimensionalmente. Insomma, l'abbiamo studiata però dall'alto. Non c'eravamo mai andati ad allunare sopra. Perché? Perché non sapevamo come comunicare con il Lander, quindi la sonda che sarebbe atterrata, o con eventuali rover, quindi le sonde che si sganciano dai Lander e se ne vanno in giro, tipo robottini felici, tipo numero 5 o Wall-E. A compiere quest'impresa quest'anno sono stati i cinesi, che appunto hanno un programma ambizioso, abbiamo detto, ma soprattutto hanno disponibilità economica. Perché? Perché per fare una cosa del genere non dovete solo mandare una sonda verso la Luna, che comunque è una cosa costosa, ma dovete anche mandare un'altra sonda nello spazio che faccia da ponte radio. I cinesi hanno mandato una sonda chiamata Che Ziao a orbitare attorno a un punto chiamato Lagrangiano II. I punti lagrangiani sono dei punti particolari dello spazio, particolarmente comodi se volete mandare una sonda e volete lasciarla più ferma possibile. Dovete immaginare il sistema Sole-Terra nello spazio che circonda questi corpi, voi avrete gli influssi gravitazionali dei corpi. Ecco, i punti lagrangiani sono delle zone di calma in questo mare di influssi gravitazionali in cui voi potete, se avete una massa molto più piccola di quella dei corpi in gioco, e una sonda o un telescopio spaziale di solito hanno una massa molto più piccola della Terra e del Sole, voi, dicevo, potete con poco sforzo rimanere il più fermi possibili. Perché in questi punti gli influssi dei corpi si vanno a bilanciare e ad equiparare. Uno di questi punti si chiama appunto lagrangiano secondo o L2 ed è particolarmente comodo se volete spedire qualcosa dalla Terra e qui i cinesi hanno mandato la loro sonda a Ceziao. Voi potete mandare da Terra delle informazioni a Ceziao che le prende e le fa rimbalzare in direzione del lato nascosto della Luna dove c'è Chang'e. Chang'e prende le informazioni, fa quello che deve fare, rimanda informazioni verso Ceziao il quale le fa rimbalzare verso la Terra. Noi senza Ceziao, senza un ponte radio, non potremmo comunicare con l'atto nascosto della Luna. Ma noi stiamo parlando del lato nascosto della Luna, non del lato oscuro. In Italia noi abbiamo una convinzione particolarmente radicata sul fatto che esista un lato oscuro della Luna mai illuminato dalla luce del Sole. La bufala si è sparsa a tal punto che si è anche evoluta. C'è chi parla di telescopi spaziali da costruire su questo lato oscuro della Luna perché qui non essendoci mai il Sole i telescopi potrebbero osservare perfettamente le stelle. No, si parla davvero di telescopi spaziali da montare sul lato nascosto della Luna. Ma non perché il Sole non arriverà mai a disturbarli, ma per il semplice fatto che nel lato nascosto della Luna io non ho la Terra a illuminare perché la Terra, purtroppo, con la sua atmosfera, riflette la luce del Sole, almeno in parte. E quindi se io ho un telescopio sul lato visibile della Luna avrò anche il riflesso del lampione Terra che mi dà fastidio alle osservazioni. Se io invece vado sul lato nascosto della Luna, almeno il lampione Terra non ce l'ho. Se poi passa il Sole, vabbè, non è che posso spegnere il Sole, fortunatamente. Però almeno non ho il riflesso della Terra. Ecco, in Italia invece c'è gente fortemente convinta che esista una metà della Luna che non viene mai illuminata dalla luce del Sole. E questa cosa non ha nessun senso. Ma nessuno, nessuno, la Luna rispetto al Sole che magari sta qui avrà sempre una posizione differente man mano orbita attorno alla Terra. E quindi ci saranno dei momenti in cui ad essere illuminato è il lato visibile della Luna. Si chiama Luna Piena. Poi avremo dei momenti in cui ad essere illuminato sarà solo metà del lato visibile e metà del lato nascosto. È la mezza Luna. Ma poi ci saranno dei momenti in cui la Luna si trova fra la Terra e il Sole e in questo momento il suo lato nascosto è perfettamente illuminato mentre il lato visibile è completamente al buio. Questa è la Luna nuova. Si ha una volta ogni quattro settimane. Non è una condizione così rara. Ed è tra l'altro la condizione in cui una volta ogni tot anni si ha un'eclissi solare. Nell'eclissi solare voi avete la Luna che si mette in mezzo alle scatole fra il Sole e la Terra. Quindi che cosa vedete dalla Terra? Vedete la Luna che va a oscurare il Sole e in quel momento la faccia visibile della Luna è completamente nera ma la sua faccia nascosta è completamente illuminata dal Sole. Non serve fare grossi ragionamenti per capire che il lato oscuro della Luna non esiste. Eppure questa cosa è diffusissima dicevo nel nostro paese tanto che quando io nelle conferenze o negli spettacoli interrogo scherzosamente il pubblico e chiedo esiste un lato oscuro della Luna mai illuminato dalla luce del Sole? La maggior parte delle risposte che ricevo è sì. E questo non perché gli italiani siano particolarmente stupidi quanto per il fatto che noi ragioniamo di pancia e a una domanda diretta noi rispondiamo col cosiddetto sistema 1 vuol dire sostanzialmente con le emozioni e non con la razionalità e le emozioni ci dicono che il lato oscuro esiste. Questo per una serie di ragioni. Punto numero 1 quando noi sentiamo parlare di un qualcosa di oscuro siamo più attratti rispetto a una cosa chiara non misteriosa eccetera. Lo dice anche Yoda in Guerre Stellari il lato oscuro è più seducente. Più rapido più facile più seducente. Se voi vi guardate Star Wars è chiaro che sono più fighi i personaggi del lato oscuro piuttosto che di quelli luminosi Yoda a parte però lui è un nanetto con le orecchie lunghe verde cioè divertente di per sé ma quanto è figo Darth Fener quanto è figo Darth Maul nonostante poi gli abbiano fatto fare una morte stupida. Fatto sta che quindi il mistero ci attrae sempre quando noi sentiamo parlare di un qualcosa di misterioso ci vogliamo credere è il motivo per cui tutto sommato alla fine crediamo alle bufale ai complotti e quant'altro. Ma in realtà sul lato oscuro della luna in Italia abbiamo un ulteriore problema. 1973 un gruppo musicale tutto sommato famoso tali Pink Floyd pubblicano un album abbastanza rinomato The Dark Side of the Moon è uno degli album più venduti della storia della musica è uno degli album più conosciuti da tutte le generazioni io tuttora incontro bambini di quinta elementare che quando nomino The Dark Side of the Moon mi dicono ah sì c'è la papà sullo scaffale quindi anche le nuove generazioni conoscono quell'album peccato che quell'album si chiami in un determinato modo che per noi italiani che abbiamo problemi con l'inglese vuol dire lato oscuro della luna Dark Side of the Moon in inglese vuol dire anche altro tipo che intanto dark può essere usata anche nell'accezione di misterioso quindi i Pink Floyd scrivono del lato misterioso della luna del lato nascosto della luna che esiste noi traduciamo dark invece con scuro ma c'è un altro problema il fatto che in inglese Dark Side of the Moon è anche un gioco di parole che riporta un po' al nostro essere lunatici perché noi diciamo qualcuno è lunatico perché c'era una credenza nell'antichità per cui la luna influenzasse il nostro stato psicofisico motivo per cui sono nati ad esempio i licantropi nelle mitologie perché eravamo convinti che la luna desse fastidio a un sacco di cose lo siamo tuttora perché se voi chiedete in giro troverete delle ostetriche convinte che ad esempio ci siano più nascite nei giorni di luna piena falso prendete i registri dell'anagrafe vedete quando nascono i bambini e scoprirete che non c'entra niente con la fase lunare poi però troverete della gente che vi dice che i capelli vanno tagliati in una precisa fase lunare oppure che la vendemmia va fatta in una precisa fase lunare ma cosa stiamo dicendo cosa diamine c'entrerà il fatto che la luna sia più o meno illuminata col fatto che mi crescano di più o meno i capelli non c'entra niente però noi siamo convinti che la luna che è lì che ci guarda da miliardi di anni sia lì anche a influenzare le nostre vite qualcuno ha detto oroscopo fatto sta che in inglese Dark Side of the Moon sta a indicare la follia che c'è nelle persone e quindi l'essere lunatici con un'accezione molto molto forte noi parliamo di qualcuno lunatico come qualcuno strano ecco in inglese Dark Side of the Moon indica invece proprio la follia e il titolo dell'LP dei Pink Floyd che in realtà originariamente si chiamava Eclipse perché The Dark Side of the Moon era stato già utilizzato da un'altra band musicale che erano i Medicine Head comunque The Dark Side of the Moon si rifaceva proprio alla follia ed era un omaggio a un ex componente del gruppo Sid Barrett che aveva avuto grossi problemi psichici quindi i Pink Floyd parlano di follia e comunque di lato misterioso della luna noi traduciamo male in lato oscuro della luna ma che cosa succede che quel lato oscuro della luna quell'espressione sedimenta nella testa di tutti noi e lo fa tramite le emozioni perché la musica fa scaturire le emozioni e noi abbiamo un problema nella nostra testa noi crediamo di essere esseri razionali ma in realtà quasi mai ragioniamo con la mente spesso ragioniamo con dei pregiudizi che chi ne sa chiama bias cognitivi che ci fanno analizzare le notizie con cui entriamo in contatto e uno di questi bias cognitivi si chiama effetto dell'illusione di verità cioè se una notizia non mi è nuova tendo a crederci di più e quando io dico lato oscuro della luna nella testa delle persone le emozioni della musica fanno aprire un cassettino della memoria per cui la gente dice lato oscuro della luna ne ho già sentito nominare quindi deve esistere nella prova il fatto che dei principali quotidiani nazionali la maggior parte di questi abbiano titolato lato oscuro della luna e non so se per ignoranza io ricordo un articolo di repubblica di anni fa in cui la tartaruga marina veniva definita un mammifero non so se è per malafede ma non credo in questo caso non c'è nessun motivo di inventarsi delle fregnacce scientifiche come succede spesso ad esempio al fatto quotidiano ma facciamo anche finta di essere ottimisti e credere che tutti i giornalisti in questione sappiano che non esiste un lato oscuro della luna ma abbiano usato oscuro nell'accezione di misterioso e nascosto anche loro ecco è una cosa estremamente pericolosa perché se poi voi andate a chiedere alla popolazione la popolazione è convinta che oscuro voglia dire che non riceve luce purtroppo i media in queste cose giocano un ruolo fondamentale quindi sarebbe anche il caso che vadano a ricontrollare 200 volte quello che stanno scrivendo e purtroppo non è né il primo né sarà l'ultimo caso in cui una bufala incredibile finisce sui giornali dita incrociate per il futuro qualora foste interessati ad approfondire quest'argomento nello specifico del lato oscuro della luna ma anche altri argomenti legati sempre al nostro satellite naturale vi rimando al libro Astro Bufale in cui in un capitolo apposito smonto tutte le possibili credenze sul nostro satellite naturale il link lo trovate in descrizione trovate in descrizione anche i miei canali social in cui approfondisco gli argomenti più legati all'attualità e io vi do appuntamento al prossimo video che spero sia il primo possibile sarà immagino sugli ignobel a meno che qualche altro giornale non mi faccia venire una sincope io vi ringrazio ancora una volta per le tantissime iscrizioni per tanto affetto che mi state dando e i tanti complimenti e anche le critiche costruttive e ci vediamo grazie a tutti